Il circuit de Barcelona a Catalunia, sede del Gran Premio di Spagna, sottopone l'impianto frenante a stress meccanico e termico medio. La frenata più severa precede curva 10. La velocità iniziale è di 316 km orari. Il pilota esercita una pressione sul pedale pari a 144 kg, sviluppando una potenza frenante di 2388 kW e percorrendo 122 metri in 2,5 secondi. La velocità finale è di 117 km orari, la decelerazione massima di 4,7 G. Grazie a tutti.